Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. Un'onda di emozione unica ha attraversato il mondo dei VIP italiani, quando due icone famose sono diventate finalmente nonni. La coppia ben nota per il celebre programma Il Castello delle Cerimonie ha dato il lieto benvenuto a piccolo Matteo, il primo nipote di donna immapolese e Matteo Giordano. L'annuncio della nascita è stato accolto con gioia e condivisione sui social media. La carica emotiva dei neuroni è tangibile nei messaggi condivisi sui social, dove hanno condiviso radianti e felici le foto con la coccarda azzurra, simbolo della gioia per l'arrivo di un maschietto. Donna immapolese ha reso omaggio alla sua amata madre, immortalando una sua foto nel contesto delle celebrazioni del battesimo. Inoltre, la coppia ha preparato bomboniere speciali da regalare agli ospiti per celebrare l'arrivo del nuovo membro della famiglia. La nascita di Matteo rappresenta un momento di immensa gioia e felicità per tutta la famiglia, che ha già sperimentato un lussuoso matrimonio festeggiato in grande stile, proprio come nel loro celebre programma televisivo. Tuttavia, l'arrivo del neonato ha reso questa festa ancora più speciale, con l'intera famiglia che accoglie con affetto il nuovo membro. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità. Grazie. Grazie a tutti.